massimiliano varrese in lacrime per monia il grande fratello 2023 riserva una sorpresa massimiliano varrese in crisi al grande fratello 2023 massimiliano varrese non ha mai nascosto la propria felicità nel ritrovare nella casa del grande fratello 2023 monia la ferrera con cui ha avuto una relazione diversi anni fa all'interno del bunker di cinecittà i due hanno trascorso tanto tempo insieme e in tanti hanno sperato che tra i due potessi esserci un ritorno di fiamma a cambiare le carte tuttavia è stato il pubblico che chiamato a scegliere il nuovo eliminato ha deciso di mandare a casa proprio monia l'eliminazione della ferrera ha lasciato l'amaro in bocca a massimiliano che sta affrontando ore complicate all'interno della casa dopo aver trascorso la notte massimiliano ha trascorso la mattinata in giardino dove una canzone ha scosso profondamente l'attore che non è riuscito a trattenere le lacrime pensando proprio a monia le lacrime di massimiliano varrese per monia da solo in giardino con gli occhi protetti da un paio di occhiali da sole massimiliano varrese crolla e si lascia andare alle lacrime mentre nella casa risuona una canzone che gli fa tornare a galla vecchi ricordi lacrime che l'attore non riesce a trattenere al punto che si lascia travolgere dall'emozione cosa accadrà dunque tra i due nelle prossime puntate il grande fratello permetterà a massimiliano di rivedere o risentire monia attraverso una sorpresa una lettera o un video messaggio ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella